Il sodalizio tra l'Istituto d'Arte a Polloni di Fano e Passaggi Festival si salda sempre di più. Dopo la felice esperienza dello scorso anno, anche quest'anno è stato chiesto agli studenti di scenografia di portare il loro contributo artistico e creativo sui luoghi della manifestazione. Quest'anno il tema è l'Europa e quale occasione più ghiotta per dei ragazzi che con l'Europa avranno sicuramente più a che fare delle passate generazioni per esprimere il proprio sviluppo concettuale su un tema così avvincente. Il mio progetto è quello centrale che rappresenta l'Europa, ma non soltanto l'Europa dell'Unione Europea ma anche il continente. Infatti sono presenti luoghi come la Turchia che non sono presenti né nell'Unione né nella cartina geografica europea. Con la richiesta di entrare dal 2005 della Turchia nell'Unione Europea ho deciso di inserirla per un fatto storico. Questo modello dell'Europa verrà cerchiato da un tornado di fogli che sono ricollegati al manifesto di Ventotene. Bene, invece il tuo lavoro? Il mio invece verrà collocato nell'ex chiesa di San Francesco e rappresenta un labirinto che sarebbe la mente umana, articolata e piena di pensieri. Rappresenta appunto il pensiero del manifesto, il pensiero di un progetto europeista che deve trovare la via giusta per la propria realizzazione. Il mio progetto è caratterizzato da delle sculture e installazioni che saranno collocate al pincio e sono delle sagome di figure umane che tentano di passare questi elementi piani, questi pannelli. proprio per comunicare l'idea di un'Europa che va oltre i confini e che pensa insomma in grande. Le ragazze hanno cercato di concentrarsi su un allestimento scenografico, scenotecnico che interagisse con gli spazi della città, quindi con i luoghi storici dove verrà il festival, che sono i luoghi della nostra città. Gli elementi scenografici ideati e progettati dagli studenti durante l'anno scolastico e poi da due settimane a questa parte anche materialmente realizzati dai ragazzi nel laboratorio di Falegnameria dell'Istituto grazie anche alla materia prima fornita gratuitamente dal Brico Center di Bellocchi e che faranno bella mostra sui palchi del festival. Dove quest'anno l'organizzazione di Giovanni Belfiore, ideatore e direttore del festival, porterà gli ospiti sono ben due, il mainstream della piazza dove sfileranno i big del festival e quello un po' più off del pincio, più social, più giovane e con un taglio più accattivante per le giovani generazioni, un esempio, un esperimento, tutto da scoprire. A me quello che premeva sottolineare era appunto questa funzione possiamo dire anche sociale che sta assumendo il festival, che si sta radicando sempre di più all'interno del tessuto cittadino e questa capacità appunto di mettere in comune anche tanti bei progetti, far emergere quelle che sono le creatività di questi ragazzi e quindi siamo veramente contenti di questa collaborazione. Quest'anno con l'aggiunta del pincio i ragazzi si sono dovuti impegnare ancora di più e poi sono venuti fuori dei lavori veramente interessanti, anche complessi dal punto di vista concettuale.